Per effettuare un prelievo non sarà più necessario prenotare, ma si potrà accedere liberamente ai centri prelievi del Santa Croce di Fano e del San Salvatore di Pesaro dalle 7.30 alle 10 dal lunedì al sabato, quindi con fascia oraria ampliata di mezz'ora e muniti della ricetta rossa, anche urgente, del medico di medicina generale o di pediatria di libera scelta, questo per l'accesso con il sistema sanitario nazionale, oppure con la ricetta bianca per l'accesso a pagamento. Negli stessi orari sarà possibile effettuare la consegna dei campioni e a coordinare le nuove attività sarà Enzo Pazzaglia, primario unico di Marche Nord e dunque è stata pensata una nuova riorganizzazione che fa marcia indietro rispetto alle scelte del 2013, quando l'azienda ospedaliera assicurò che l'introduzione della prenotazione avrebbe migliorato il servizio, ora invece si torna all'accesso libero. Da ieri, 2 febbraio 2015, è stata eliminata tutta la procedura di prenotazione per cui i pazienti possono venire con accesso diretto al laboratorio, si presentano qui nella sala d'aspetto dalle 7.30 alle 10 e premono il tasto numero 1 dall'elimina code per poter seguire tutto il flusso all'interno del laboratorio. Restano garantite le priorità di accesso per i pazienti in terapia anticoagulante, anche quelli in trattamento chemioterapico e dialitico e infine i bambini e le donne in gravidanza. Queste persone dovranno premere il tasto 2 come in precedenza, ma la procedura è comunque semplice per tutti. Dopo aver preso il biglietto dalla colonnina, nel monitor compariranno dei numeri progressivi, fino a che sulla destra lampeggerà un numero verde. Questo sta ad indicare lo sportello dell'accettazione al quale ci si deve rivolgere. Poi, una volta concluso il primo passaggio, lo sguardo si dovrà spostare sull'altro monitor che stabilirà invece il relativo box per eseguire il prelievo. Oppure ci sono situazioni particolari, esami particolari, che hanno bisogno di una sosta un po' più prolungata all'interno del laboratorio, sia perché possono essere le curve, curve glicemiche, curve prolatine, situazioni particolari in cui l'utente ha bisogno di essere sdraiato nei lettini, oppure deve appunto permanere nel laboratorio per un certo tempo perché devono essere fatti dei prelievi frazionati. Oppure per esami micologici. In questo caso la prenotazione viene fatta direttamente ai numeri del laboratorio, sia di Pesaro che di Fano, e poi dopo, in funzione delle posizioni libere, l'utente viene dirottato presso il laboratorio di Pesaro o di Fano per fare il prelievo. Agli utenti è data anche la possibilità di prenotare comunque tramite il consenter del CUP al numero verde 800-098-798 da telefono fisso, oppure allo 0721-177-9301 da cellulare, attivo da lunedì al venerdì con orario 8.18 e sabato 8.13. In questo modo, sempre uniti di ricetta, sarà possibile fissare la data del prelievo e il giorno dell'esame, accedere ad un percorso dedicato con minor tempo di attesa. Infine la riorganizzazione del laboratorio regolamenta anche gli esami a pagamento. Infatti si potrà accedere presentando la ricetta bianca, con un aumento della tariffa di circa il 20% rispetto al tariffario nazionale.